Insieme al vicepresidente Nellaghezzo Massimo Anselmi si parla di una frattura di rapporti tesi con il presidente Lacava. I tifosi si chiedono che sta succedendo. Ma anche io ho preso un po' dalla stampa. Sì è vero c'erano delle divergenze, però ecco questo non ha niente a che vedere con il calcio. Quindi c'è sicuramente una situazione da chiarire, ma poi ho preso dalla stampa appunto che la tensione si stava un po' incrementando. Tutto qui. Avete avuto dei dissidi su come gestire la società? Allora apparentemente no, perché nei consigli di amministrazione prendiamo delle decisioni, devo dire, nemmeno in maggioranza ma all'unanimità. Quindi siamo tre componenti, io Orgoglio Amaranto e appunto il presidente Lacava. Però spesso dopo quello che viene appunto definito in consigli di amministrazione, poi dopo in altre stanze probabilmente si prendono e si fanno strategie un po' diverse. Quindi si richiama un po' a quello che è l'ordine di una società normale. Noi vogliamo assolutamente dare continuità e mantenere tutte le regole che servono come una società normale, un SRL che ha una governance in CDA. Cioè diciamo che erano state prese delle decisioni anche nell'ultimo CDA e poi invece sono seguiti dei comportamenti contrari rispetto a quelle decisioni. Allora sì, questo fa rimanere un po' perplesso me, nel senso che avevamo deciso sì di fare una strategia di mercato e poi dopo il presidente appunto ha fatto scelte diverse senza condividerle. È vero che è importante il risultato sportivo e questo nessuno lo vuole toccare, nessuno lo tocca, però se ci sono delle opportunità appunto che possono sicuramente mettere un equilibrio finanziario è altrettanto importante per la continuità di una società che non si ferma a giugno ma ha un programma appunto triennale. Anche perché la gestione di questa società, i costi sono lievitati rispetto a quello che era la previsione iniziale? Sì, è stato sempre increscendo questo, nel senso che il primo budget aveva un obiettivo effettivamente molto contenuto e poi c'è stata una rettifica nel mese appunto di agosto a fine mercato quando insomma le situazioni erano definite che poi è lievitato di oltre un milione rispetto al budget dell'agosto. Quindi è ovvio che è determinante e utile ponderare molto bene le scelte in questo momento. Quindi siamo sopra i 3 milioni in questo momento? Sì, siamo sopra i 3 milioni, circa 3 milioni e mezzo e devo dire che i presupposti iniziali erano appunto di alta attenzione finanziaria di società normale e comunque ci sono regole nelle società, nelle SRL che ci permettono appunto di stabilire quello che può essere un limite oltre il quale comunque può emettere a rischio una società. Quindi è per questo insomma che si fanno i CDA, si condividono strategie, si prendono delle decisioni. Ma devo dire che ad oggi i risultati sul campo ci danno grande soddisfazione, ma questo non ha nulla a che vedere con l'impatto economico. Quello va comunque tenuto sotto controllo. C'è un timore da parte del socio di minoranza che magari le operazioni di mercato di giugno non coprano questo sfogamento di budget? Ah no, rispetto alle dichiarazioni che sono state fatte dal direttore generale mi pare di no, però ecco ancora dobbiamo fare un ulteriore consiglio d'amministrazione che ci possa appunto permettere di fare il punto della situazione perché io ho solo appreso dalla stampa e dalle reti televisive appunto delle dichiarazioni del direttore che che menzionano circa due milioni per due giocatori. Però ecco io non ho prontezza e ero pronto ad affiancare in tutto questo ma non sono stato coinvolto. La decisione era stata quella di cedere Basit ad esempio per fare un nome? Ma la decisione era una decisione dinamica quindi dipendeva dalla circostanza quindi dovevamo valutare all'ultimo minuto cosa fare. Ecco questa è la decisione presa insomma tant'è vero che io ero a Milano comunque 30-31 disponibile a condividere certe decisioni ma non sono stato contattato. In alcune dichiarazioni di La Cava al Corriere di Arezzo dice riferendosi penso appunto a Massimo Anselmi e troppi attacchi a Piegoni. Ma allora io non non trovo fondamento in questa affermazione nel senso che se ci sono delle opioni diverse non sono legate ad una persona nello specifico. Cioè io principalmente ho rapporti in CDA quindi parlo di calcio all'interno di insomma di una condivisione tra l'altro che non vede partecipi solo Massimo Anselmi, Cucciniello in rappresentanza di Orgoglio Amaranto e Giorgio La Cava ma vede in condivisione anche commercialisti, avvocati. Generalmente siamo più o meno 10 persone che assistono a questi CDA e non mi risulta di avere mai attaccato. Anzi devo dire che il lavoro che è stato svolto è un lavoro che poi risultati nel campo lo dimostrano ma non dico solo riferito a Armando Pieroni ma anche a Emiliano Testini e onestamente non so a cosa si riferisca il presidente. Come si chi compone a questo punto? Si può chi comporre questo rapporto nella sede opportuna cioè al CDA? Ma sì, io sono disponibile. Io ho tentato insomma di parlare con Giorgio anche domenica ma non era proprio il caso. mi ha allontanato quindi onestamente non dipende da me. Io sono disponibile anche perché vivo in questa città, ci sono nato e assolutamente desidero che questa società possa dare il meglio e possa proseguire nel proprio progetto. E poi non dimentichiamo che non è una società che appartiene solo a Orgoglio Amaranto, Massimo Anselmi e Giorgio La Cava è una società che comunque ha avuto un contributo dalla città e come tutte le società di calcio devono tener conto della città. Quindi io ritengo opportuno che tutto il progetto non debba avere nessun problema, sicuramente non da parte mia. Ma Massimo Anselmi sarebbe disposto anche ad avere più quote di questa società? Ma quando Giorgio La Cava ha dichiarato la sua disponibilità io ho dato la mia disponibilità. Certo che in una società di calcio visto e considerato un po' questi precedenti dove effettivamente le decisioni prese in consiglio di amministrazione poi dopo vengono un po' alterate in altre stanze è opportuno che un eventuale incremento di quote debba essere con un certo equilibrio perché forse i soci di minoranza in società di questa natura hanno poco significato. Io ricordiamo che sono qua che avrei dovuto ricoprire un ruolo quasi simbolico con un 10% perché all'epoca ho accolto l'appello appunto del sindaco ma non ero solo dovevamo essere in più imprenditori faccio un piccolo riassunto ma utile e poi dopo Giorgio La Cava mi chiamò e mi chiese una partecipazione maggiore che ho dato però è chiaro che ci sono delle regole questa società è nata con un consiglio di amministrazione e quindi all'interno di quel consiglio di amministrazione l'obiettivo è quello di mantenere gli equilibri principalmente economici. Non dico che non ci siano però se c'era un'opportunità di mercato probabilmente poteva essere condivisa e non dico colta ma comunque condivise poi una ultima decisione doveva essere di noi tre. e questo ripeto al di là dei risultati sportivi perché tutti vogliamo i risultati sportivi io sono diventato un tifoso, sono allo stadio e mi emoziono quando la squadra vince e il nostro mister ha fatto grandi cose però sicuramente alcuni ritocchi non complicano i nostri risultati sportivi. L'ultima cosa, questi costi lievitati sono lievitati per gli stipendi o ci sono altre voci di uscita che hanno portato questo budget a diventare così pesante? Ma devo dire che è un po' normale che in una società nuova ci siano degli imprevisti quindi non posso dire che è solo una voce, sono una serie di voci che sono lievitate e non dobbiamo dimenticare che ci sono altre voci che non possiamo appunto gestire come ad esempio una ristrutturazione alle caselle cioè noi abbiamo comunque bisogno di investire ulteriormente quindi forse il gruppo dei costi, la famiglia dei costi della squadra quindi dei giocatori ha superato sicuramente quello che era l'obiettivo iniziale probabilmente per un numero di giocatori che è lievitato che è superiore rispetto forse agli obiettivi iniziali che però ci ha dato anche delle ottime opportunità è ovvio che in una situazione di mercato dove l'obiettivo dei mesi precedenti era fare un nuovo punto con il mercato di gennaio l'obiettivo era alleggerirsi di alcuni giocatori così come è stato fatto ma anche valutare bene le opportunità che non dovevano comunque intaccare il rendimento della squadra assolutamente no anche perché gli obiettivi oggi come tutti sappiamo sono diversi e questo ci fa molto piacere In conclusione comunque sa che è stato meglio sicuramente non per volontà credo di Massimo Zerbi affrontare i discorsi nelle serie di opportunità perché poi in un momento così dopo anche il derby di domenica agitare la piazza sicuramente per molti tifosi è stato un fulmio da Celserino certo non lo aiuta la tranquillità generale Sì mi dispiace molto questo infatti è la cosa che mi dispiace di più anche perché comunque io sabato ho chiamato Giorgio perché c'erano stati degli scambi di mail che insomma mi facciano percepire una situazione di tensione sabato l'ho chiamato e mi ha detto ci vediamo domani alla partita e alla partita appunto ci siamo visti l'indomani ma non c'è stata insomma la voglia di voler approfondire o comunque di risolvere la questione questo mi dispiace che sono sempre disponibile ripeto perché non ho nulla da recriminare ho solo un ruolo e lo vorrei compiere al meglio